Ciao ragazzi, ben ritrovati, oggi accolgo finalmente tutte le vostre richieste perché questo video si rivolge a tutti coloro che hanno dubbi, domande e comunque hanno veramente rivolto un sacco di quesiti riguardanti iCloud perché soprattutto si usa iCloud, perché andrebbe usato e poi come va usato iCloud molte di voi non capiscono come gestire le foto, come liberare spazio quindi ci sono un po' di interrogativi che effettivamente mi sono reso conto che anche sul sito ufficiale di Apple possono andare un po' in confusione ecco perché con questo video cerco di partire dalle basi e darvi risposta a tutte le domande più frequenti prima di spostarmi sulla scrivania e mostrarvi in azione iCloud, come si attiva devo per forza di cose dirvi perché andrebbe usato iCloud perché consiglio di attivare iCloud innanzitutto iCloud può essere utilizzato ovunque sui vostri dispositivi Apple iPhone, iPad, macOS, un browser una volta che avete attivato iCloud potrete sincronizzare tutti i vostri documenti le foto, le email, tra tutti i dispositivi ma anche se avete un computer Windows potete accedere tramite browser ad iCloud e gestire tutto quindi iniziate già a capire che uno dei primi motivi fondamentali per utilizzare iCloud è appunto quello di avere una sincronizzazione completa di tutto tra i vari dispositivi poi banalmente attivando iCloud, la prima cosa che tutti vogliono fare e perché attivano iCloud è risparmiare spazio su iPhone in questo modo tutte le foto e i video andranno sullo spazio iCloud però qui c'è da fare una precisazione perché quando andremo sulla scrivania vi faccio capire un po' come funziona la gestione di foto e video quanto spazio occupano suiCloud, quanto ancora suiPhone e altri dispositivi usare iCloud poi è fondamentale perché innanzitutto vi permette di sfruttare la funzione trova il mio iPhone, quindi se avete smarrito il vostro iPhone potete usare questa funzione e poi se avete delle password, beh, potrete sincronizzare le password in modo automatico tra tutti i dispositivi, salvarle nel portachiavi quindi ogni volta che accederete a un sito sarà stesso iPhone in automatico a riempire i campi infine, ma non per questo meno importante avere iCloud significa che se anche non avete un computer, un Mac e il vostro iPhone o il vostro iPad si rompe o succede qualcosa o dovete trasferire i dati in un nuovo iPhone o un nuovo iPad basta inserire la vostra email di iCloud, effettuare l'accesso e tutto sarà sincronizzato quindi non avete per forza bisogno fisicamente di un PC o di un Mac dopo questa premessa un po' lunghetta ma doverosa adesso spostiamoci sulla schivania e vi spiegherò per filo e per segno come si attiva iCloud e tutte le domande più frequenti che solitamente assillano non solo i nuovi utenti iCloud ma anche quelli che lo utilizzano da un po' di tempo iniziamo a vedere come si attiva iCloud basta andare nelle impostazioni, toccare sul vostro nome utente adesso alla voce iCloud toccate gestisci spazio qui voi avrete una voce per attivare iCloud nel mio caso essendo già attivo c'è cambia piano e la prima cosa che voglio farvi vedere sono i prezzi avendo io un abbonamento da 2,99€ al mese per 200GB posso migliorare a 2TB a 9,99€ oppure tornare indietro perché il prezzo base è di 0,99€ al mese per 50GB quindi anche se avete un abbonamento attivo potete sempre tornare indietro o addirittura disdire l'abbonamento e quindi non avere più iCloud ogni volta che vi pare vediamo però adesso un po' di domande e andiamo subito a dare delle risposte pratiche e molto frequenti tutto di iCloud si gestisce sempre dall'impostazione dell'iPhone vostro nome utente, voce iCloud adesso qui in alto vedrete la voce di quanto spazio avete occupato sul vostro iCloud nel mio caso 83GB su 200GB in uso e soprattutto grazie a queste iconcine capirete lo spazio da cosa è occupato di più nel mio caso guardate, il giallo rappresentano foto e video voi vedete scritto foto ma in realtà sono inclusi anche i video backup sono i salvataggi che iPhone fa per eventuali backup poi documenti e messaggi toccando poi su gestisci spazio avrete un dettaglio di tutte le app che occupano spazio sul vostro iCloud nel mio caso vedete che su 83GB ben 61 sono di foto e video poi c'è il backup dell'iPhone, c'è Whatsapp eccetera una nota, backup non è solo del mio iPhone corrente ma se toccate su backup troverete tutti gli iPhone che avete avuto o tutti i dispositivi che in quel momento state utilizzando io ad esempio ho un bel po' di iPhone però ecco questi due non li utilizzo più quindi se volete recuperare spazio una cosa che vi posso consigliare è di cancellare il backup di quegli iPhone che non avete più ad esempio io cancello questo e basta toccare elimina backup cancello questo, adesso questo ecco qui, adesso lui ha aggiornato tutti i dati ho solamente il backup del mio iPhone 13 Pro e del mio iPhone 13 Mini ho recuperato così alcuni giga preziosi infatti guardate rispetto a 83 sono sceso a quasi 77 giga quindi ho recuperato circa 6 giga la cosa però fondamentale è che da questa schermata voi potete scegliere quali app e quali servizi potete sincronizzare su iCloud la prima cosa che vi consiglio di fare è sincronizzare le foto toccate su foto e attenzione una volta sincronizzate le foto di iCloud avrete queste opzioni cosa significano? io vi consiglio caldamente di attivare ottimizza spazio iPhone e non scarica e conserva originali per un semplice motivo ottimizza spazio iPhone significa che su iCloud verranno sincronizzate le foto in risoluzione massima su iPhone invece vedrete un'anteprima meno pesanti ma non vi preoccupate che in ogni istante potrete scaricare la foto in risoluzione massima vi farò vedere più avanti come si fa abilitate anche album condivisi perché è interessante sfruttare iCloud anche per altro ad esempio avete fatto un viaggio siete andati in viaggio con i vostri amici create un album potete condividere l'album in modo tale che anche gli altri aggiungano foto o video al vostro album quindi veramente un'opzione interessante tornate indietro e da qui vi consiglio anche di abilitare naturalmente il backup iCloud come vi ho fatto vedere prima ma soprattutto portachiavi perché? perché il portachiavi va a tenere aggiornate tutte quelle informazioni come nome utente e password che avete inserito sui siti utilizzando Safari ma anche le carte di credito le password delle reti Wi-Fi insomma tutte le password vengono sincronizzate dal portachiavi quindi è giusto che voi abilitiate il portachiavi in modo tale che su qualsiasi dispositivo sempre e comunque avrete sempre accesso alle password e non dovrete stare lì ogni volta a reinserirle qui poi potete iniziare a gestire le app che vi interessano davvero e che potete sincronizzare perché io ho lasciato relay privato e nascondi la mia email perché ve ne ho già parlato in un altro video sono funzioni avanzate per il momento non vi interessa sapere nulla essendo una beta questa non ve la consiglio neanche di attivare per ora nascondi la mia email ne ho già parlato permette di creare delle email temporanee da poter utilizzare magari su forum in fase di registrazione se non volete inserire la vostra vera email a noi adesso interessano queste opzioni quali app sincronizzare su iCloud iCloud Drive vi consiglio di farlo e vi parlerò brevemente anche di esso mail di iCloud io la tengo disattivata non mi interessa ma voi se volete potete attivarla i contatti fondamentali anche il calendario pro memoria note i messaggi a me non interessano Safari sì borsa non mi interessa e guardate cosa succede nel caso in cui avevate un vecchio backup potete scegliere se mantenere o no questi dati per liberare spazio io faccio elimina io queste le tengo tutte attive perché fondamentalmente le utilizzo e mi servono ma guardate cosa più importante più in basso troverete app che magari avete sul vostro dispositivo e qualcosa potete toglierla tipo Google Alert l'inserzione di Facebook Instagram ma naturalmente questa è una mia scelta personale voi fate le vostre scelte in base alle vostre esigenze adesso però andiamo alla cosa più importante come si gestiscono le foto su iCloud allora cosa succede quando voi iniziate a sincronizzare le vostre foto fa tutto iPhone quindi non preoccupatevi non appena sarà in Wi-Fi iPhone inizierà a caricare su iCloud le vostre foto e i vostri video quindi tutto quello che avete nell'album foto compresi anche i video cosa succederà però in questo momento succederà e tenete sempre bene a mente che tutto ciò che è sul vostro iPhone viene sincronizzato su iCloud tutte le foto tutti i video saranno anche su iCloud e dovete immaginare come se una copia del vostro iPhone sempre sincronizzata sarà lì perché vi dico questo? perché se adesso voi aprite una foto e la cancellate anche se la state cancellando dal vostro iPhone guardate lui avvisa questa foto verrà eliminata da foto di iCloud su tutti i dispositivi quindi cancellando la foto sul vostro iPhone la state cancellando anche da iCloud viceversa se andate su iCloud e cancellate la foto si cancellerà anche da iPhone come si va su iCloud? si va su iCloud tramite il browser e potete fare lo stesso dall'iPhone da iPad ma anche da PC una volta fatto accesso su iCloud avrete queste impostazioni queste schermate che potrete gestire se toccate su foto lui inizierà a caricare tutte le vostre foto e guardate questa è la foto che vi ho mostrato prima quindi potete cancellarla anche in questo modo ma guardate lui vi avvisa sempre e comunque che se cancellate questa foto verrà eliminata da tutti i dispositivi oltre che da iCloud quindi tenete sempre bene a mente questa cosa ora però vi faccio vedere una cosa molto importante sempre per quanto riguarda le foto perché molti di voi mi hanno chiesto sì io ho sincronizzato le foto su iCloud però comunque rimane spazio occupato sul mio iPhone allora andate nelle impostazioni generali spazio iPhone e guardate questo è lo spazio occupato sul mio iPhone se ben ricordate lo spazio occupato invece dalle foto sul mio iCloud era di circa 60 giga guardate qui come sono poche cosa fa iPhone come vi dicevo iPhone prende le vostre foto le mette su iCloud poi sul vostro iPhone rimane una versione più ottimizzata quindi non a risoluzione massima dunque verrà sempre occupato un po' di spazio non è che 60 giga vengono completamente trasferiti tutti su iCloud e su iPhone non avrete niente però almeno un paio di giga li troverete sempre anche occupati sul vostro iPhone altra cosa quindi da tenere sempre bene a mente perché guardate in questo caso io localmente ho 5 giga e 23 presenti su iPhone ma sono sicuro che questi 5 giga e 23 saranno anche presenti in quei 60 giga che ho su iCloud ora naturalmente mi vorreste chiedere sì ma una foto mi hai detto che è ottimizzata non è in massima risoluzione quindi come la vede in massima risoluzione sul mio iPhone vi faccio vedere aprite il vostro rullino di foto ora se scorrete tra le vostre foto andando indietro nel tempo in modo automatico iPhone cosa farà quando prenderete una fotografia e la aprirete ad esempio questa se non è scaricata in massima risoluzione lui vi farà vedere un'anteprima non molto definita ma dopo un paio di secondi vi scaricherà la foto in alta risoluzione quindi fa tutto iPhone in modo automatico stessa cosa passato trascorso un po' di tempo iPhone riprende la foto la mette su iCloud e la ottimizza quindi vi lascia qui un'anteprima ottimizzata e solo quando voi andrete ad aprire la foto ve la scaricherà in alta risoluzione naturalmente capite bene che questo significa che se si è in uno spazio dove non c'è campo dati quindi non avete wifi non avete dati per scaricare in alta risoluzione la foto avete bisogno di una connessione altrimenti continuerete a vederla non definita ma nel momento in cui andrete sotto rete dati o wifi la foto sarà in alta definizione sempre dalle foto grazie ai Cloud qui in per te troverete poi di volta in volta una serie di ricordi che il vostro iPhone vi creerà questi ricordi potrete gestirli sono mini video che potete modificare potete in ogni volta guardate ne ha avviato uno e lui vi fa vedere le foto che ha scelto potete sempre modificarlo o comunque scegliere di inviarlo magari a qualcuno come sentite lui in automatico mette anche una canzoncina anche questa può essere sempre modificata scegliendone tra varie che vengono proposte potete anche impostare dei filtri quindi veramente potentissimo lo strumento dei ricordi inoltre sempre grazie al fatto che utilizza iCloud e ho anche i contatti condivisi lui capisce che posso condividere qualche foto con un mio contatto questo ad esempio è un mio amico come ha fatto a capire che è un mio amico perché guardate se voi aprite una foto eccola qui andando verso l'alto vi comparirà questa iconcina piccolina in questo caso c'è solo una persona e quindi una sola iconcina ma se c'erano più persone più iconcine voi toccando su questa iconcina potrete impostare chi è quella persona se è un vostro contatto e in questo modo automaticamente iPhone e iCloud prenderanno tutte le foto in questo caso il mio amico Simone e realizzeranno un album con tutte le foto come ad esempio queste qui e poi avrete altri suggerimenti sotto iPhone è quindi sempre più potente e completo grazie anche al connubio con iCloud se ben ricordate quando vi ho parlato di iCloud vi ho anche fatto vedere iCloud Drive praticamente Drive di iCloud non è altro che un sottoservizio di iCloud che vi permette di gestire file e documenti si può accedere dall'applicazione file che avete di solito sul vostro iPhone se non c'è la trovate nell'Apple Store e la scaricate e una volta scaricata voi potete sempre navigare ovunque se toccate su iPhone sarete all'interno delle cartelle del vostro iPhone se invece tornate indietro e toccate su iCloud Drive sarete all'interno di cartelle condivise quindi significa che se voi inserite un documento qui dentro qui in qualsiasi cartella vogliate potete accedere tramite iCloud Drive a questi documenti ovunque tramite il vostro cloud quindi sul vostro iPad sul vostro Mac sul vostro Windows come si fa? beh se avendo un dispositivo Apple fa tutto in automatico altrimenti ricordate cosa vi ho fatto vedere prima andando su iCloud da browser troverete anche la voce iCloud Drive e qui potete gestire come vedete le stesse cartelle e tutti i file per scaricarli importarli fare quello che volete quindi strumento potentissimo anche iCloud Drive beh ragazzi parliamoci chiaro è stata una lunga chiacchierata però molte delle informazioni che vi ho dato sono risposte a quelle domande così frequenti che mi fate quotidianamente che ho detto un video bisogna farlo perché c'è molta confusione come avete visto mi sono soffermato molto sull'aspetto foto video perché fondamentalmente la maggior parte delle persone che vanno su iCloud per attivare il servizio hanno bisogno di salvare foto e video ho accennato iCloud Drive perché molti non capivano cosa potesse servire e come sfruttarlo ma soprattutto vi ho fatto vedere che potete accedere in qualsiasi momento ai vostri contenuti cloud tramite browser ovunque voi siate meglio ancora se avete tutti i dispositivi Apple perché in quel modo Apple sincronizza da solo il tutto o meglio da sola scusate e niente dopo questa chiacchierata spero di avervi chiarito un bel po' le idee ma non preoccupatevi perché se avete dubbi domande qualcosa non vi è chiaro oppure mi sono dimenticato di spiegare qualcosina lasciate un commentino io vi risponderò e vi do appuntamento al prossimo video ciao ragazzi ciao